Musica Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Apriamo con la cronaca dalla provincia di Padova. Rapina violenta nel pomeriggio a Borgo Ricco. Erano le 16. Due banditi armati di taglierino e pistola hanno fatto eruzione nell'agenzia della Cassa di Risparmio del Veneto in via Roma. Hanno minacciato i presenti e hanno intimato loro di consegnare il denaro presente nelle casse. I rapinatori se la sono presa con l'impiegato che doveva consegnare i soldi e lo hanno picchiato. Sono stati momenti di terrore nei quali è stato preso in ostaggio anche un cliente. I rapinatori avevano un chiaro accento veneto. Dopo che hanno preso i contanti, si sono dati alla fuga. Sul posto è stato lanciato l'allarme. Sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno già avviato le indagini. Si sono messi alla ricerca dei banditi. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118. Ci spostiamo a Venezia. È giallo a Marghera. Il corpo di un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita dal figlio dentro casa. È accaduto ieri. Le indagini stanno proseguendo. L'uomo al collo presenta una profonda ferita da taglio. La vittima era il padre di due sacerdoti. Il servizio. Giallo a Marghera. Giovedì pomeriggio alle 16.30 è stato trovato esamine con un profondo taglio alla gola Alberico Cannizzaro, 79 anni. Il corpo nella sua abitazione in piazzale Radaelli. Una tragedia che ha colpito la notta famiglia veneziana. La vittima è padre di due preti del veneziano. È stato proprio uno dei figli, Don Corrado, a trovare il corpo del papà. Allarmato perché non rispondeva al telefono da alcune ore, il sacerdote corso a casa facendo l'atroce scoperta. Immediato all'arrivo della polizia che unitamente alla scientifica ha dato il via alle indagini. Alberico era stato visto da alcuni vicini alle 8 in giardino. All'ora di pranzo aveva parlato al telefono con i familiari che si trovavano in gite in montagna, la moglie e l'altro figlio. Ma cosa è successo in quella casa? Si tratterebbe di un omicidio. Al momento però sulle indagini viene mantenuto il silenzio. Unico elemento trapelato, la mancanza di segni di effrazione sulle porte o sulle finestre. La vittima dunque potrebbe aver aperto il suo assassino. La salma aveva una profonda ferita tra il collo e il petto. La lama era ancora all'interno. Sulla vicenda si è svolto venerdì mattina un lungo vertice in procura tra magistrato e forze dell'ordine e la vicenda è stata blindata dallo stesso procuratore capo Luigi Del Pino. I profughi a Padova hanno trovato una collocazione all'interno dell'ex caserma Prandini in centro città. Una sistemazione che ha colto tutti di sorpresa. La prefettura infatti nei giorni scorsi aveva comunicato di aver abbandonato l'idea di aprire le caserme dismesse e invece è arrivato questo cambio di rotta. L'ex Prandina funzionerà come centro di prima accoglienza. I profughi a Padova hanno trovato collocazione all'interno dell'ex caserma Prandina. I primi sono stati sistemati nel pomeriggio di giovedì ma altri sono arrivati nella notte e probabilmente il numero è destinato a salire. Una sistemazione che ha colto di sorpresa. La prefettura infatti aveva comunicato di aver abbandonato l'idea di aprire le caserme dismesse. Poi il cambio decisionale intrapreso per la troppa affluenza e l'impossibilità di lasciare queste persone per la strada. Da venerdì mattina la notizia è stata ufficializzata. L'ex caserma Prandina di Padova diventerà centro di prima accoglienza per i profughi. Gli immigrati arrivati giovedì sono stati ricollocati da una cooperativa della provincia in altre strutture e quindi l'ex caserma riceverà i prossimi arrivi. Intanto all'interno è stato allestito il necessario per l'accoglienza, brandine, docce e bagni chimici. Una soluzione che sta creando molte polemiche. Non è d'accordo il sindaco sulla decisione intrapresa. Così come non lo sono i commercianti del centro che giovedì sera hanno protestato. E dunque come avete sentito nel servizio questa è la destinazione per l'ex caserma Prandina ma non è finita qui. Nella pomeriggio è arrivato un comunicato con alcune dichiarazioni del sindaco di Padova Massimo Bitonci che oltre ad essere sempre stato contrario alle destinazioni delle caserme per l'accoglienza ha avuto indiscrezioni di altre ulteriori soluzioni. Ecco cosa dice il comunicato. Secondo indiscrezioni e non certo perché il sindaco ne sia stato informato ufficialmente dagli organi competenti a Padova in una laterale di via Bembo sarà realizzata una tendopoli a dichiararlo il sindaco di Padova. Le decine di richiedenti asilo che ad oggi sono in giro per la città faranno base nel bel mezzo di un'area residenziale densamente popolata e a pochi metri dal centro storico. Chiedo, dice Massimo Bitonci, ai parlamentari padovani che sostengono un governo pericoloso per i cittadini di sfiduciarlo facendo altrimenti dimostreranno di essere favorevoli a questo genere di iniziative. Alfano omette a repentaglio la salute dei padovani e privilegia i clandestini a scapito di chi paga le tasse. No, dice il sindaco di Padova ad una tendopoli in via Bembo, in città. Adesso cambiamo argomento. Il sindaco di Abano Terme si difende dichiarandosi estraneo ai fatti contestati attraverso l'inchiesta che lo vedrebbe al centro di una vicenda legata a tangenti. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, il primo cittadino di Abano avrebbe ricevuto un numero cospicuo di appartamenti in cambio di favori. Non si tratta di immobili intestati direttamente a lui, ma dalle indagini tutti riconducibili alla sua persona. La Guardia di Finanza sta proseguendo gli accertamenti ad ampio raggio. Luca Claudio ha diramato un comunicato affermando che si tratta di un attacco alla sua persona e lo ha postato anche sui social network. Il lavoro delle fiamme gialle intanto prosegue. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte dalle acque del lago di Garda il corpo di un uomo che si è sentito male mentre si esercitava su una tavola nei pressi del lungo lago Cipriani a Bardolino. Una tavola a sup. I vigili del fuoco insieme al personale della Capitaneria di Porto usciti subito dopo l'allarme dato dagli amici della vittima sono riusciti a individuare e recuperare il corpo soltanto alle 2.40. Il personale ha iniziato subito le manovre di rianimazione ma sono state inutili. Sul posto anche la Polizia di Stato, Carabinieri e il personale del 718 che ha constatato il decesso dell'uomo, un 36enne residente a Daffi, originario della Campania. Questa mattina ha chiarato il sito internet del liceo Nievo di Padova oscurata alla home page dove sono apparse scritte e un video di matrice islamica. Adesso il sito è tornato normale ma vi facciamo vedere nel servizio come si presentava questa mattina. Il sito internet del liceo Nievo di Padova ha subito nella mattina di venerdì un attacco informatico da parte del Moroccan Islamic Union Mail. Gli hacker hanno bloccato la home page del sito e è apparsa la scritta rossa su un fondo nero con un video di alcuni minuti. Il video riportava scritte in arabo ma era parlato in inglese. Non è la prima volta che i siti internet di scuole italiane subiscono questo tipo di attacco. Sono già state avviate le indagini da parte della Digos e della Polizia. Non si tratta di un messaggio jihadista ma di messaggi religiosi di chiara matrice islamica. Si parla infatti di Mahometto e vengono fatti riferimenti alla Bibbia. Probabilmente si tratta di propaganda. Quel video è già presente anche su YouTube. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina a Taglio di Po. La vittima è Dario Gangarossa, 24 anni, un operaio di Porto Viro. Viaggiava a bordo della sua moto Ducati quando per causa in corso di accertamenti è andato a sbattere contro un'auto, una Smart guidata da un 23enne di Taglio di Po. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale ma nonostante il prodigarsi dei sanitari non ce l'ha fatta. Parliamo di un altro incidente stradale, questa volta avvenuto in A4, sempre stamane. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare le persone coinvolte tra i feriti. Poco prima delle 11.30 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale con tre mezzi coinvolti lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. L'incidente avvenuto al chilometro 355 ha coinvolto una Fiat Punto che si è capovolta con tre persone a bordo, un Audi A6 e un furgone Ford con i due autisti. I vigili del fuoco di Padova intervenuti con sette operatori e due automezzi tra cui l'autogru hanno messo in sicurezza il luogo e collaborato con il personale del Suem del soccorrere gli occupanti della Punto che sono stati portati in ospedale tra cui uno in elicottero, in lesi gli altri due autisti. La Polstrada sta ricostruendo la dinamica dell'incidente sul luogo anche il personale ausiliario dell'autostrada Brescia-Padova. Si è riunita oggi a Mestre in Coldiretti Veneto la consulta lattiero casearia per affrontare le problematiche inerenti al diktat europeo a dir poco incomprensibile che permetterebbe di fare il formaggio con qualsiasi sottoprodotto industriale. Il confronto guidato dal responsabile confederale Apostoli ha messo l'accento sugli effetti devastanti per le imprese zootecniche del Veneto. Si tratta, è stato detto durante la riunione, di un crollo del reddito per gli oltre 3.500 produttori che realizzano 11 milioni di quintali di latte, dei quali l'80% è destinato alla trasformazione in formaggio. Il danno, ha ricordato il direttore, non è solo degli allevatori ma anche dei consumatori che si vedono gabbati davanti allo scaffale del fresco in supermercato acquistando confezioni di dubbia provenienza con immagini commerciali in realtà poi truccate. è una battaglia che accomuna tutti, dicono, nel rispetto della trasparenza e legalità con cui i nostri agricoltori operano. Per la gravità della situazione, col diretti non esclude già da ora iniziative di mobilitazione. Con la riduzione delle agevolazioni fiscali approvate dal governo entro il prossimo 6 luglio i trasportatori italiani saranno costretti ad un maggiore aggravio di tasse che uscillerà tra gli 8.100 ai 13.600 euro circa. Lo sostiene la CGA di Mestre, secondo cui se le merci trasportate sono in ambito locale l'incremento sarà più contenuto. Se invece l'azienda di trasporto opera su distanze molto lunghe la crescita fiscale media si alzerà notevolmente. E adesso novità che arrivano dopo l'inchiesta sul Mose. La Cassazione respinge il ricorso di patteggiamento presentato da Galan. La settima sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo inammessibile al patteggiamento così passato in giudicato di Giancarlo Galan relativo all'accusa di corruzione nell'ambito della vicenda Mose. Galan aveva patteggiato due anni e dieci mesi di carcere e 2,5 milioni di euro. Ora chiederà di essere assegnato ai servizi sociali mentre per il pagamento della somma l'ipotesi è che se non sarà in grado di trovare i milioni di euro che dovrà restituire dovrà cedere Villa Rodella a Cinto Euganeo. Adesso parliamo di questo clima pazzo per quel che riguarda la giornata di oggi. Bollino Rosso in varie città italiane è allerta per le alte temperature ma contemporaneamente è stato diramato un bollettino di allerta meteo per temporali sparsi in Veneto che potrebbero assumere carattere intenso tanto che è stato diramato per alcuni bacini lo stato di attenzione fino alle 10 di domani. Alcuni danni sono stati registrati nel Vicentino, lo vediamo in queste immagini. La perturbazione ha toccato la città berica e parte della provincia nel pomeriggio. Questi sono i danni provocati dal forte vento. L'allerta riguarda in particolare i bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano, Alto, Brenta, Bacchiglione e Alpone e Adige, Garda e Monti, Lessini. Quindi insomma abbiamo delle condizioni un po' controverse per quel che riguarda il tempo, le condizioni climatiche. E adesso invece come ogni venerdì parliamo di storia e la linea va all'esperta Marisa Sottovia. Grazie, grazie Patrizia. Oggi parliamo di Dante Alighieri, il sommo poeta. Ne parliamo perché ricorrono i 750 anni dalla data della nascita, avvenuta nel 1265 ed è morto nel 1321 a Ravenna. Perché ricordiamo Dante? Che cosa lega Dante alla nostra regione? È stato poeta, è stato scrittore, ma è stato anche un politico. E nel corso della sua vita politica ha avuto un esilio perpetuo che è durato quasi 20 anni e qualche periodo l'ha passato anche in Veneto perché è stato ospite a Verona dalla famiglia dei Scaligeri, poi è stato a Padova, poi a Treviso e poi a Venezia. E allora vediamo un po' l'origine e la storia della sua famiglia. Apparteneva allo schieramento dei Guelfi, cioè quella fazione a favore del Papa. Il padre era un cambio a valute. Non si hanno invece notizie della mamma, Gabriella degli Abati, anche perché Dante non ne parla mai, essendo rimasto orfano all'età di sei anni. Il papà poi si risposa e avrà altri due figli. All'età di 12 anni viene concordato per Dante un matrimonio con Gemma dei Donati, una famiglia influente di Firenze. Era abitudine dell'epoca confrontare in età precoce questi matrimoni. Si sposerà a 20 anni e la coppia avrà tre figli, due maschi e una femmina. Però Dante divinizza un'altra donna, Beatrice, che si racconta aver visto una sola volta nove anni. Però è stata una figura importante per le sue opere, soprattutto per la Vita Nova e per la Divina Commedia. Le opere di Dante sono tante, ricordiamo Rime, Vita Nova, Convivio, De vulgari Eloquenzia. Scritta in latino questa opera. Lui sosteneva appunto che il latino si doveva essere utilizzato per argomenti molto importanti, come i trattati internazionali, oppure per le leggi, oppure per argomenti religiosi. Era un forte sostenitore poi del volgare, cioè la lingua parlata dal popolo, che secondo lui doveva competere con la lingua di Virgilio. Altre opere ancora di monarchia è la Commedia. Commedia è il nome originale della Divina Commedia. Divina è un aggettivo che è stato aggiunto dal Boccaccio appunto perché l'ha ritenuto un capolavoro. Un capolavoro che questo viaggio immaginario di Dante attraverso i regni dell'aldilà, che sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Nell'inferno nel purgatorio è accompagnato da Virgilio, mentre nel paradiso è accompagnato da Beatrice. Allora vediamo un attimo perché Dante è stato esiliato. Siamo nel fine 1200, dopo un periodo di pace, e in Firenze appunto succedono dei contrasti appunto per le fazioni di Guelfi a favore del Papa, come dicevamo, e Ghibellini a favore dell'imperatore. Dante appartiene alla fazione dei Guelfi. Guelfi che a sua volta si dividono in Guelfi bianchi e Guelfi neri. E Dante apparterà alla fazione dei Guelfi bianchi che avranno il governo della città. All'epoca era Papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII si vide contrastato da questa fazione, ma anche da Dante, per la sua politica espansionistica. E farà di tutto per rovesciare questo governo. Infatti manda a Firenze Carlo di Valois, fratello di Filippo IV di Francia, che riuscì a rovesciare appunto a cambiare il governo. Da questo momento salgono al potere i Guelfi neri e per Dante incomincia una vera e propria persecuzione. Fu accusato di peculato, fu organizzato un processo al quale si sottrasse, ma fu condannato all'interdizione dei pubblici uffici, fu alla confisca dei beni e all'esilio perpetuo. Quindi Dante dovette lasciare la città di Firenze con grande amarezza e appunto trascorse vent'anni fuori in esilio. Questo esilio, in parte, come dicevamo, è stato ospitato presso la Verona, a Verona presso la signoria Cangrande, signoria degli Scaligeri, e ancora adesso a Verona c'è un discendente della sua famiglia. Poi è stato a Padova, poi a Treviso e a Venezia. A Treviso, presso la chiesa di San Francesco, c'è la tomba di un figlio di Dante. Quindi, in questa ricorrenza appunto dei 750 anni dalla nascita, anche il Veneto ricorda il sommo poeta. Continuiamo con altre notizie dal territorio. Aperto a Padova per la prima volta nel nord-est, un ufficio postale multilingue. Posta Italiana ha presentato oggi il progetto per favorire l'integrazione e rispondere alle esigenze degli immigrati. di sette le lingue parlate dagli operatori italiano, arabo-francese, albanese e inglese. Il multietnico quartiere Arcella è stato scelto per attuare il progetto multilingua di poste italiane con l'inserimento negli uffici postali di operatori in grado di facilitare la comunicazione con gli immigrati e di comprenderne le esigenze con un'offerta di vari prodotti mirati. Parliamo di traffico già intenso questo venerdì, ma naturalmente aumenterà con il trascorrere delle ore per tutto il fine settimana. Si prevede un sabato e domenica caldo sul versante della viabilità lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete, con traffico intenso anche domani in A4, A57 e A23 in entrambe le direzioni. Possibili code e rallentamenti. Per domenica invece le previsioni indicano una giornata tranquilla con transiti più intensi al mattino dovuti ai pendolari che si muoveranno per raggiungere il mare e chiaramente poi alla sera per i rientri. Siamo arrivati al termine di questo spazio dedicato all'informazione. Come previsioni del tempo avete sentito le condizioni climatiche sono da bollino con caldo intenso previsto durante questo fine settimana in particolare per la giornata di domani e domenica lungo le coste del nostro Veneto mentre ci sarà anche la contemporanea possibilità di temporali intensi. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, buona serata.